Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa. Tieni lo sguardo rivolto al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena. Mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi posteriori più twist. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta apri e chiudi gambe. Via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jump, jump, squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più plank and jump. Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e i glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta con passo frontale più rotazione. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese. Per riuscirci, tieni l'addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani con piegamenti. Via! Se non ce la fai, esegui i piegamenti sulle braccia con ginocchia a terra. Non inarcare la schiena. Mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Flessioni con rotazione. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento quando esegui la flessione. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto. Spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Tocco delle spalle in plank. Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non ruotare il bacino per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Bird dog. 3, 2, 1, via! Non inarcare la schiena. Tienila sempre in linea con spalle e glutei. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino quando sollevi la gamba o diminuirà l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Plank con scalata. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena. Mantieni la parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare e inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia. Dive boom. Via! Se non ce la fai, esegui dei piegamenti sulle braccia semplici. Fai attenzione a non flettere la testa dietro durante il movimento e mantieni sempre l'addome contratto. Durante l'esecuzione, non poggiare mai il bacino a terra in modo da massimizzare gli effetti dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi frontali più squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno durante affondi e squat ed effettua un passo laterale al posto dei salti. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Pugno alto più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un pugno alto semplice. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Non ruotare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e gli glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più pugno alto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più crance laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank laterale più crance laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non guardare il pavimento. Fissa un punto avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti braccia larga e ginocchia a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani con piegamenti. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui i piegamenti sulle braccia con ginocchia a terra. Non inarcare la schiena. Mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non flettere i piedi. I talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Piegamenti a B. Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia a terra. Nella fase di discesa, spalle, braccio e busto devono essere sulla stessa linea. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. Via! Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack più pugno laterale. Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo il crunch. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Prossimo esercizio. Sit up più rotazioni del busto. Via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti la spinta con le braccia, così potrai massimizzare l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Power crunch completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le mani poggiate al pavimento. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Per non oscillare con il busto, tieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Twist a terra più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato, gamba tesa. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non inarcare la schiena. La zona lombare deve essere perfettamente aderente al suolo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Allunga le braccia lentamente per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via! 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 Fai attenzione a non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. Via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching spalle e dorsali seduti. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non sollevare il bacino da terra per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non guardare davanti, rilassare il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia. Tenile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Non piegare le braccia. Grazie a tutti.